...attraverso il suo mezzo, un goccione di olio locale, insieme a un'anziana, che ha fatto un olio fritto. Grazie. Sì, sì. ...attraverso il suo mezzo. ...attraverso il suo mezzo. ...attraverso i modelli dei quali si guardava in un tempo. Erano i santi. E dai santi si imparavano l'onestà, oggi imparavano, la fedeltà, bravissima, la fede, in certi luoghi si sta spegnendo. E senza fede non abbiamo più la bussola coriata della vita. Pensate, Idro Montanelli, un po' di giornalista piuttosto brillante, poco prima di morire disse, «A me la mancanza di fede mette dentro tanta sofferenza. Sento che mi manca qualcosa di essenziale, qualcosa per la quale devo sacrificare tutto il resto». Peccato non l'ha capito soltanto io. E giù prima di morire, confinò un vale bianro dentro l'epoca di Milano. «Padre, se devo chiudere gli occhi, senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono dovuto a fare su questa terra?» Quella è una pena capisse gli occhi, la mia, una ricarazione di fallimento. Eppure oggi quanta gente ha in queste condizioni. Chiediamo a me in mente per loro. E cerchiamo il più possibile di vivere intensamente. Santo Onorato, perché tutto sommato è onorato la sua fede? Per la fede si è spesso per voi, per la fede ha fatto del bene. Oggi potrebbe fare il ministro della ricordazione, per la vita che è bene. Un uomo straordinario, un uomo di fede, che ha inciso nella vita sociale. Questo è meraviglioso. Chiediamo alla grazia di poter anche noi crescere nella fede e purifichiamo il nostro cuore. Chiedendo per tutti i nostri preghiati. Confesso.